Chiara Petrocco, candidato sindaco, quindi rottura con il Pdl o perlomeno con il candidato ufficiale del Pdl per Luigi Properzi? Non c'è uno scontro né col candidato ufficiale né con il partito. La mia è una candidatura, come ho spesso detto, a servizio della città che vuole distaccarsi da quella che è una politica non vincente e non strategica per la città dell'Aquila, non pensata, diciamo così. Non si rischia una dispersione del voto? Ma io credo che non ci siano proprio le condizioni per parlare di una mia candidatura come dispersione di voto, perché io ho fatto questa scelta proprio perché ritengo che questo tipo di candidatura non avrebbe portato a un risultato.